Musica Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di MOV ATTACK Oggi vi spiegheremo come costruire una telecamera democratica Per prima cosa prendete del cartone, possibilmente riciclandolo Lo ritagliate e ci fate delle belle scatole di cartone tipo questa Usate dei tubi della carta igienica o del panno di carta Per fare l'obiettivo Una volta che l'avete chiusa, scocciata, la prendete e la dipingete allegoramente Fatto? Avete preso nota? Una volta terminato questo lavoro avrete praticamente una telecamera finita Dove farete le prese con del nastro da carta, le cinghie praticamente Prendendo poi altro cartone fate dei tondi Li incollate con un rotolo di carta igienica Lo prendete, lo inserite tra i due dischi E farete praticamente le bobine che andremo ad applicare poi sulla cinepresa Una volta che sarà pitturata benvenino Con il nastro da carta ci facciamo le cinghie E praticamente avremo alla fine una telecamera democratica Ops, pubblicità Il palmente è cambiato e quattro coglioni devono stare qui a fare le telecamere Perché non vogliono farci riprendere i consigli di zona Complimenti e viva la rivoluzione arancione E la facciamo invece di cartone Grazie a tutti Allora, avete fatto? Avete preso nota? Avete visto come si costruisce una telecamera democratica? Bene Ora che siete armati al punto giusto Usatela per andare nei vari consigli Di zona Nel consiglio comunale A riprendere un po' quello che fanno i vostri dipendenti Interessatevi Informatevi Informate il prossimo Registrate e divulgate Come vi viene Per il momento è tutto Un saluto da Morciaccia E da Movattac A riprendere un po' di A riprendere un po' di A riprendere un po' di A riprendere un po' di